Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Claudioar, oggi vedremo come sarebbero i rapper senza denti. Sono quasi sicuro che ognuno di noi si sarà chiesto, si sarà posto questa domanda almeno una volta nella sua esistenza. Ovviamente io penso proprio nessuno ragazzi, però ovviamente noi dobbiamo comunque pensare che qualcuno di noi si sarà posto questa domanda almeno una volta nella sua vita. E questo video servirà proprio per risolvere quest'enigma, come sarebbero i rapper senza denti e oggi lo scopriremo insieme. Ovviamente se siete nuovi vi consiglio di iscrivervi a questo canale, tanto non costa niente, ci vogliono solamente due secondi, quindi ragazzi se non l'avete ancora fatto iscrivetevi. E se volete supportare questo video di lasciare un bel like. Comunque adesso come sempre saluto i sei fortunati di oggi che sono... Matteo Menigli, Antonio Iameo, Stefano Desogus, Riccardo Gugliotta, Peter007 e Start. Congratulazioni! Se anche voi volete essere salutati al prossimo video dovete solamente lasciare un bel like, iscrivervi al canale, attivare la campanella, condividere questo video ai vostri amici e commentare qui sotto con salutami. E una volta fatto ciò prima o poi verrete salutati. Adesseremo di incominciare subito con questo video. Ok, allora come primo rapper vi metto subito Sfere Bassa. Infatti ho deciso di mettervi subito il rapper che secondo me è il più richiesto, quindi Sfere Bassa. Qui state vedendo appunto la foto di Sfere Bassa con i denti e senza denti. Mi sembra normale dirvi, ma anche scontato, che questa è una foto fatta durante X-Factor. Infatti per chi non lo sapesse Sfere Bassa è diventato giudice di X-Factor e queste appunto sono delle foto che sono state scattate proprio per questo programma. Sfere Bassa con i suoi denti e qua senza denti. Ovviamente qui sotto nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate. In realtà non è che c'è molto da dire perché comunque c'è nel senso è senza denti. Cioè ragazzi non è che c'è molto da commentare. Poi non lo so, può essere che qualcuno c'è un qualcosa da aggiungere, ma dubito fortemente. Ragazzi invece adesso troviamo Tedua. Secondo me ragazzi Tedua è quello lì che mi è uscito meglio. Cioè adesso lo state anche vedendo. Secondo me Tedua mi è uscito in una maniera perfetta ragazzi. L'espressione è un po' cambigua, adesso la state vedendo. Però ragazzi cioè secondo me è venuto davvero bene rispetto agli altri. Forse un altro che è venuto bene è anche lui, Tony F ragazzi. State vedendo anche adesso Tony F. Davvero è venuto bene anche Tony F ragazzi. Davvero senza parole, senza denti. E adesso troviamo anche Gallagher. A Gallagher ho fatto un piacere levandogli quei brutti denti che ci aveva. Cioè ragazzi davvero se vi serve uno che vi deve fare i photoshop chiamate me. Adesso lo sapete. E quando si parla di Gallagher non si può parlare anche di Traffic. Infatti adesso troviamo anche Traffic. Traffic anche a te ho fatto un piacere levandoti quei brutti denti che c'hai. Scusa se te l'ho detto ma è la verità. Cioè ragazzi davvero ti ho fatto un piacere. Adesso invece troviamo Nitro. Anche a lui ho levato i denti ragazzi. State vedendo infatti Nitro senza i suoi denti proprio in questa foto. In queste due foto che state vedendo in questo momento. Adesso invece troviamo Fabi Fibra. Anche in questo caso state confrontando le foto di Fabi Fibra per vedere appunto il risultato. E vi ripeto ragazzi. Un'altra volta se vi piace questo video di lasciare un bel like. E se siete nuovi di iscrivervi. Adesso invece troviamo Gali. Qui trovate la foto di Gali con i denti e qua senza denti. Quindi adesso state vedendo queste immagini. Devo dire la verità a me fa un po' impressione vedere Gali senza i suoi denti. Poi non so ragazzi può essere che voi proverete un'attrazione per questi rapper senza denti. Ma io in realtà no ragazzi. Adesso invece troviamo Jamie Tights. Anche qua troviamo appunto Jamie Tights con i suoi denti. E dall'altra parte lo troviamo invece senza i suoi denti. Anche in questo caso fatemi sapere una vostra opinione qui sotto nei commenti. Che è sempre ben accetta. Adesso invece troviamo Shiva. Ecco qui la foto di Shiva con i denti e qua senza denti. Anche in questo caso potete notare la differenza appunto per la non presenza dei denti. Mi sembra anche normale dire questa cosa. E quindi ragazzi anche in questo caso non so davvero cosa dire. Cioè alla fine li ho levati io i denti ragazzi. E non è che li ho trovate su internet queste foto. Sono stato io a fare queste opere d'arte moderna. Adesso invece troviamo Mambolosco. Anche in questo caso ho levato i denti a Mambolosco. Qui state vedendo appunto le differenze di Mambolosco con i suoi denti e senza denti. Ovviamente le differenze si possono ampiamente notare. Per anche in questo caso la non presenza dei denti. Ragazzi anche in questo caso sono davvero strabiliato. Si può dire questo termine? Si ragazzi strabiliato per il risultato. Cioè ragazzi è davvero un risultato incredibile. Adesso invece troviamo Gue Pechegno. Qui trovate Gue con i suoi denti da rapper. Infatti qua state notando appunto questi denti dorati, mezzi argentati. Cioè ragazzi proprio i denti del rapper. E invece qua notate appunto il risultato opposto. Cioè non ci sono proprio più i denti. Cioè non è che c'è altro da dire. E anche in questo caso ragazzi sinceramente non so cosa dire del risultato. Anche perché mo fondamentalmente chi si è mai chiesto come sarebbero i rapper senza denti? Penso a nessuno. Cioè ragazzi. Cioè se conoscete qualche persona che se l'è chiesto fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Adesso invece troviamo Capo Plaza. Qui invece trovatevelo appunto Capo Plaza senza i suoi denti. Ragazzi davvero senza parole. Cioè davvero ragazzi. Sono scioccato. Scioccato davvero. Sono scioccato davvero per quello che sto vedendo. Cioè ragazzi. Incredibile. Assurdo. Dopo aver visto questa foto sono rimasto davvero senza denti. Adesso invece troviamo il rapper che insieme a Mambolosco ha creato il tormentone di quest'estate. Ovviamente stiamo parlando di Boroboro. Qui state vedendo appunto Boroboro con i suoi denti e dall'altra parte senza i suoi denti. Anche in questo caso il risultato è assolutamente strabiliante ragazzi. E non lo sto dicendo perché io ho photoshopato queste foto. Ma perché davvero ragazzi non l'ha mai fatto nessuno questo video e sto capendo anche il motivo sinceramente. Adesso invece troviamo Marrakesh che ha anche lanciato il suo ultimo album Persona. E qui stiamo vedendo per appunto Marrakesh senza i suoi denti. Infatti da una parte potete ammirare Marrakesh con i suoi denti. Dall'altra parte Marrakesh senza i suoi denti. Anche in questo caso il risultato è assolutamente incredibile. Assurdo. Davvero ragazzi non ho parole per descrivere quello che sto vedendo. E che stiamo vedendo in questo momento. Quindi che dire ragazzi sono davvero senza parole. Adesso invece troviamo Salmo. Ecco qui Salmo senza i suoi denti. State vedendo per appunto il risultato. Adesso troviamo anche Shade. Shade con i denti e Shade senza denti. Anche in questo caso mi sono un poco divertito. Adesso invece troviamo proprio lui. Young signorino. Proprio il leader dei tatuaggi in faccia. Però questa volta invece lo troviamo nelle vesti di rapper senza denti. Ovviamente non è che una grande veste. Però ragazzi è sempre meglio di niente. Infatti io ho levato i denti a Young signorino in questa foto. Ma ti vuol dire la verità ragazzi. Non sta neanche malissimo. Cioè sarò sincero ragazzi. Sta davvero secondo me bene. E secondo me forse uno di quelli che è uscito meglio. Poi non lo so ragazzi. Può essere che mi sto sbagliando. Adesso invece troviamo Amy Skilla. Infatti adesso state vedendo le differenze di Amy Skilla. C'è tra Amy Skilla con i denti e Amy Skilla senza denti ragazzi. Quindi adesso state vedendo appunto le immagini. Dove potete notare questa differenza. Diciamo che è una grande differenza. Visto che da una parte c'ha i denti e da una parte non ce li ha. Quindi la differenza si nota in maniera palese. E comunque anche in questo caso fatemi sapere una vostra opinione sul risultato. Si è venuto bene più che altro. Penso che sia venuto bene. Non perfetto perché ve l'ho detto non sono proprio un maestro del photoshop. Però secondo me ci sta. Cioè non è venuto proprio orribile. Adesso invece troviamo Fred De Palma. Che oramai non fa neanche proprio più rap. Oramai il suo genere è reggaeton. Però l'ho voluto inserire lo stesso. Infatti trovate anche Fred De Palma. Proprio in questo momento state vedendo Fred De Palma senza i suoi denti. Oramai io Fred De Palma lo conosco solamente per le canzoni estive ragazzi. Perché oramai fa solamente quelle canzoni lì. E non è che lo sto diciamo giudicando. Anzi da un lato fa anche bene ragazzi a fare canzoni estive. Perché porta di nero come si dice. E quindi ragazzi comunque adesso state vedendo Fred De Palma senza i suoi denti. E dall'altra parte con i suoi denti. Quindi state vedendo proprio in questo momento le immagini. Adesso invece troviamo come ultimo rapper ma non per questo meno importante. Fedez ragazzi. Anche in questo caso mi sono divertito a levare i denti a Fedez. L'ho levato in questa foto qui e anche in quest'altra con i capelli biondo platino ragazzi. Cioè ragazzi davvero su Fedez fatemi sapere cosa ne pensate appunto di Fedez senza i suoi denti. Ragazzi davvero queste foto sono davvero incredibili ragazzi. Comunque adesso state vedendo per bene anche le differenze di Fedez. Quindi davvero fatemi sapere cosa ne pensate. Vabbè ragazzi questo video finisce qui. Ovviamente se avete trovato questo video di vostro gradimento lasciate un bel like per questo video. Quindi mi raccomando ragazzi se vi è piaciuto lasciate un bel like. Se lo volete condividere sicuramente non mi fa altro che piacere ragazzi. Lo dico sempre ma ovviamente se condividete un video ai vostri amici perché vi è piaciuto in maniera particolare. Mi fa ovviamente piacere. Se volete seguirmi anche su Instagram. Questo è il mio nickname. Se mi volete scrivere qualche commento. Qualche cosa ovviamente se mi scrivete tramite troll non vi risponderò perché è normale. Però comunque io su Instagram rispondo sempre a tutti. Tranne i troll perché sinceramente perdere tempo con i troll non mi va molto a genio. Sarò sincero ragazzi. Perché purtroppo mi è capitato anche questo che mi scrivessero dei troll. Però vabbè ragazzi purtroppo capita. Comunque ragazzi se non vi siete ancora iscritti a questo canale e vi volete iscrivere. Trovate qui sotto il pulsante iscriviti. Quindi mi raccomando ragazzi se siete nuovi iscrivetevi a questo canale. Sempre se vi piace. Perché non è che voglio obbligare qualcuno ad iscriversi. Siamo in un paese libero. Siamo in una piattaforma libera. Qual è YouTube. Quindi se vi volete iscrivere trovate il tasto qui sotto. Va bene noi ci becchiamo al prossimo video. Bella. Ciao.